Benvenuti alla nuova puntata di Parole al vento! Voi non potete capire, noi. Voi non potete farlo perché noi siamo noi. E voi, voi siete voi. E se non fossimo noi, non potremmo comunque essere voi. Insomma, noi... Insomma, noi non riusciamo a capire perché voi non riuscite a capirci. Ma adesso... Ma adesso io l'ho capito. Oh, com'è vero! Ogni singolo oggetto racchiude un'emozione, un ricordo o anche solo un'immagine che in un modo misterioso ci plasma, ci condiziona e ci rende ogni giorno quello che siamo. La sofferenza è il grimaldello che apre le porte del cuore. Il disagio esteriore spesso è il riflesso di quello interiore che genera inquietudine e sconforto. Ah, che bellezza! Alcune volte la vita è ingiusta, tutte le altre volte è crudele. Ehm... Grazie a tutti.